sei partito per andare in giappone a fare manga ma diciamo che un quarto di secolo fa ormai era era una cosa parecchio difficile veramente difficile adesso diciamo che è una cosa più più burocratica nel senso che per poter andare comunque servono a parte comunque una spesa che forse è anche minore rispetto a quella che qui mi sono portato io però parliamo comunque di una spesa relativa insomma la possibilità di cambiare vita io sono stato comunque in giappone quando sono arrivato in giappone quando lo yen era la moneta più forte possibile e quindi con le lire che avevo nel momento in cui sono state cambiate diciamo che erano praticamente niente cioè oggi non ci campi neanche un mese con quello però fortunatamente dopo anni comunque di salvadanaio scusami mi viene più in giappone di salvadanaio cioè cinque anni interi di lavoro metti da parte lavoro metti da parte tutto da parte diciamo che bene o male poi comunque la famiglia anche mi ha aiutato poi sono partito comunque con mia moglie quindi il posto lo dividevamo a metà però era un periodo veramente molto difficile per chi veniva da fuori cioè stranieri non se ne vedevano ma anche i turisti in genere il giappone era troppo caro diciamo che un turista avrebbe pagato per una vacanza quanto noi abbiamo speso di vita in un mese e mezzo tu fai ed entri tu prometti e ci stai capito fai il buono e vieni quando siamo arrivati noi dicevamo che i buoni non esistevano cioè i documenti erano veramente una cosa terribili stavamo più all'ufficio immigrazione che chi a casa insomma però comunque tutto bene è un nome d'arte perché io ti conosco come Andrea ma poi vado a leggere la tua dicitura completa Andrea you poi c'è il cognome denuto chi è il personaggio chi sei tu in realtà descriviti innanzitutto è simpatica come cosa perché in realtà io non ho mai pensato a un nome d'arte massimo me l'hanno dato simpaticamente amici eccetera un nome d'arte esce fuori se fai un po' l'artist un nickname un po' ce l'hanno tutti insomma probabilmente l'hai anche avuto tu da bambino sì no però la cosa simpatica era che veramente far ridere tutti noi conosciamo comunque tanti stranieri qui in Italia ok molti di loro io l'ho vissuto come straniero io quando incontro uno straniero qui in Italia lo capisco lo sento perché 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 per esempio anche la badante della nonna di mia moglie era non mi ricordo di quale di quale isola eccetera però lei si faceva chiamare con un nome Sara ecco Sara ma secondo te questa badante si chiama Sara perché si chiama Sara perché gli italiani così come i giapponesi così come gli inglesi così come tutti i popoli nel momento in cui gli dici il tuo nome cominciano a dire eh e io quando facevo cosa ti chiami Andrea eh ah e poi dopo una settimana ah no non mi ricordo allora facciamo in questo modo io ho visto Andrea come significato no allora veridità virile no e ho visto quale nome in giapponese avesse lo stesso significato proprio con con i kanji con l'ideogramma ed era you allora ho fatto prima dire come ti chiamavo you allora tutti se lo ricordavano capito cioè è stato è stato veramente splendido perché ormai è diventato you 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 capito perché lì a quel punto se lo ricordano il nome di Sara se lo ricordano tutti ciao Sara perché se io vado a dire cioè se lei andassi a dire il suo nome dopo una settimana anche io che arrivo dalla nonna di mio e dico ciao aspetta come come si chiama non mi ricordo capito invece così Sara lo so benissimo per quello che chiamavi you sì quindi io non riesco a farne a meno anche perché comunque molti amici giapponesi hanno iniziato a chiamarmi you e continuano a chiamarmi you quindi è diventato il mio secondo nome involontariamente ecco quindi è un nome d'arte è un nome d'arte che poi significa Andrea cioè niente di di particolare proprio nulla di particolare sono un tipo proprio normale quando nasce la passione del disegno la passione del disegno sì c'è è quasi una tarratura mentale è un hobby ok va bene però è un hobby come un altro secondo me nel senso che anche io quando disegno comunque mi costa parecchia fatica mettere su un disegno ci vuole parecchio tempo non è vero che c'hai il talento e disegni ok c'è la voglia di disegnare nel momento in cui c'è la voglia la necessità di disegnare inizi a disegnare però io sono convinto che anche tu se disegni se ti metti con impegno a disegnare a passare un po' di tempo con il disegno farai dei passi notevoli io veramente non ripeto faccio comunque delle lezioni ma si tratta sempre di persone che vengono a me per il gusto e la voglia di migliorare il proprio disegno quindi sono già comunque degli appassionati mi chiedo sempre se non sarebbe interessante non nel mio caso perché sono pigro ma di qualcuno che dica ok facciamo un corso di disegno per esempio a Scolipiceno no? si ad Ascolipiceno si facciamo un corso di disegno non per bambini per gente che non ha mai disegnato quant'è vero io vi voglio vedere una trentina di persone di tutte le fasce d'età a mettervi a disegnare ma a me non mi piace ma io non sono capace ma perché queste cose? secondo me l'ideale sarebbe proprio quello di metterli insieme e dire vediamo prova a disegnare prova a farlo per una settimana vedrai quanti passi avanti farai non c'è bisogno veramente di un insegnante capito? l'insegnante è una scusa l'insegnante ti aiuta certamente però se ti metti sotto a disegnare disegni la passione diciamo che è veramente una taratura mentale di quelli che vogliono disegnare ecco essere spinti da qualcosa è quello secondo me molto importante io disegno ogni giorno ma se non disegno sto male però è anche vero che ho preso il vizio capito? mi piace disegnare voglio disegnare voglio disegnare voglio disegnare capito? e scappo dalle faccende di casa anche adesso soprattutto adesso ma se ti dico Lupin qual è il primo ricordo? il primo ricordo che ho di Lupin è stato è stato un pomeriggio in cui io già comunque seguivo anime manga e già disegnavo è stato un pomeriggio in cui sono ho acceso la tv e cambiando canale ho visto questi personaggi che erano erano molto avventurosi ho visto Ropan Lupin Jigen Guemo in azione e mi chiedevo chi fossero chi sono questi in realtà mettono una giacca una giacca per me era proprio improponibile come idea per gli anime che vedevo all'epoca nel senso che se vedevo dei vestiti reali mi sembravano mi sembravano storie tipo Nippon Animation non so se è chiaro tipo Remy per intenderci Heidi eccetera invece questi erano avventurosi e quindi sono rimasto praticamente affascinato ma proprio affascinato incredibilmente quando ho finito di vedere quell'episodio di prima serie morivo della voglia di controllare tutti quanti i canali di andare a cercare che cosa fosse ma comunque anche in Italia il pen è molto famoso io dico sempre e questo lo so perché ho tanti amici giapponesi dopo dopo il Giappone l'Italia è il paese che ama di più l'upen quindi quello che io ho vissuto l'hanno vissuto tantissimi italiani quant'è stata la prima volta che hai incontrato Monkey Punch che cosa ricordi di Monkey Punch abbiamo visti tante tante volte tante veramente tante in Giappone è stato uno zio per me per me e per mia moglie ci sentivamo spesso anche per telefono era una persona veramente disponibilissima veramente una persona normale molto molto umile molto tranquilla molto preoccupata la prima volta che l'ho visto è stato a Lucca quando ci fu nel 94 che venne per per l'uscita del fumetto con la Star Comics si e fu una sera lui era arrivato in albergo e andammo andammo da lui per prendere le tavole per la mostra dovevamo allestire a Lucca una mostra c'erano già comunque le cornici con i suoi disegni quindi andammo tutti insieme c'erano i K-Boys adesso loro hanno la loro casa editrice K-Lab andammo tutti quanti insieme con le auto un paio d'auto niente di più e andammo e lui scese con la moglie nella hall per darci le tavole e io quando l'ho visto lì davanti stavo non so se avete presente il primo appuntamento ma una cosa di questo tipo insomma ci sei fatto bello per poterci io ho visto no cioè ho visto no questo è l'uomo veramente più importante di tutta la mia vita sta là sta qui a qualche metro e infatti quando ha dato le tavole io non capivo molto perché quelle erano le originali cioè ha portato una serie di tavole che anche io comunque adesso non possiedo se non in copia stampata ha portato le originali in un plico a mano ok è logico che è logico che non ho resistito per primo il plico come se fosse veramente una ricua e poi niente l'ho consegnato comunque ai ragazzi siamo andati a sistemare la mostra però è stato veramente molto emozionante per loro per noi per tutti quanti è stato veramente molto bello ma comunque in genere una persona parlando del fumetto ecco parlando dei fumetti di cui io veramente ne ho pochissimi ma nella penultima pagina o al centro trovi comunque un articolo wanted wanted si chiama si non lo volete nemmeno sull'altro wanted alla fine o comunque nel sommario nella prima pagina c'è scritto wanted ricercato io la serie mitico si si la serie mitico certo certo apri c'è scritto wanted nel sommario pagina 100 pagina 90 una cosa simile wanted non lo trovo ma cebbe essere allora ma nelle ultime pagine oppure al centro non lo trovo ma va bene può darsi che in quel numero non ci fosse hai altri numeri di mitico comba si 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 ho tutta la serie oh perfetto allora prendi quella serie dopo che abbiamo finito il nostro collegamento si prendi mitico e cominci a vedere nelle ultime pagine ci sono i servizi gli articoli di paragone tra il manga e l'anime ah perfetto ti ricordi si si ti ricordi qualcosa ce l'hai ma ok quelli li ho fatti io con mia moglie li ho scritti proprio io con mia moglie tutti quanti tutti quanti wanted ah si oh bellissimo vedo che hai anche dei modellini si action figure ma si si abbiamo abbiamo eh sia della della quinta serie che della che dell'ultimo si del del film in 3D del film in 3D si in 3D diciamo ho lavorato comunque eh per la frutta bascia realizzando eh delle storie di Lupin si allora ehm è stato comunque un lavoro parecchio lungo nel senso che eh c'era parecchia difficoltà diciamo quasi l'impossibilità di poter realizzare ehm dei dei manga di Lupin perché comunque Lupin è un è un personaggio nazionale giapponese quindi è molto importante io ho avuto ho avuto principalmente un editore che ha creduto in me nel senso che che stranamente quando mi sono presentato in in futabascia la casa editrice lui mi disse mi disse beh molto difficile diciamo che diciamo che quasi impossibile io ho detto no ma io ci tengo a farlo e gli ho portato comunque i miei disegni lui mi disse va bene facciamo così portami portami una storia da 20 tavole e vediamo un po' la settimana prossima gli ho detto va bene la porto e ho realizzato 20 tavole come mi aveva chiesto lui ha trovato il lavoro comunque molto bello gli è piaciuto non è mai stato pubblicato quello però poi si è impegnato a darmi del una sorta di come dire una sorta di pista da poter seguire per poter disegnare Lupin e ho trovato ho trovato parecchio difficile realizzare delle storie di Lupin secondo i loro concetti nel senso che tutti pensiamo che mettiamo su una storia disegniamo Lupin e va in realtà c'è tutto un mondo intorno Lupin è un personaggio molto importante bisogna pensare alla sua psicologia al suo mondo cercare di non stravolgere nulla quindi molte cose che io portavo non andavano bene ma ho lottato talmente tanto che ho presentato comunque delle storie come sceneggiatura e capitò con il secondo editore che mi disse questa mi piace molto questa va molto bene ed è stata una storia veramente molto molto interessante non perché l'abbia pensata io perché comunque anche per i testi avevo una mia sceneggiatrice quindi avevo una persona con cui già lavoravo giapponese che scriveva comunque libri scriveva anche per la tv che mi organizzava i testi ok quindi è stato un lavoro fatto in realtà in due per quanto abbia firmato solo io perché io comunque ho messo l'input della storia lei l'ha messa l'ha messa scritta e quando è passata la prima storia ci sono stati veramente molti complimenti l'editore era rimasto contentissimo ha fatto guarda il numero è andato bene quindi probabilmente anche per la tua uscita pensiamo a farne già un'altra e da lì e da lì felicità totale ecco la prima è stata molto sofferta veramente molto sofferta hai conosciuto diversi maestri cosa hai saputo trarre da ogni maestro che hai incontrato tanto tanto tantissimo innanzitutto comunque persone persone disponibili sempre tutti non c'è c'è stato mai nessuno altezzoso per nulla ho trovato veramente tutte persone disponibili e che mi hanno insegnato tanto mi hanno insegnato cosa va bene chiaro tecniche soprattutto però all'inizio per esempio dell'animazione io facendo l'intercalatore dovevo fare i disegni tra i due movimenti no ok tra i due passaggi sui disegni principali no dovevo disegnare il disegno intermedio va bene sì sembra una cosa abbastanza semplice in realtà è abbastanza complicata complicata se vogliamo vederla secondo una tecnica giapponese anche questa mi hanno insegnato comunque le proporzioni mi hanno insegnato comunque il movimento cioè spesso e volentieri quando c'era un problema avevo fatto una scena portata avanti consegnata ma che aveva delle difficoltà mai diciamo arrabbiarsi vedevo la persona che mi faceva così sulla spalla Andrea alzati all'inizio era sempre alzati sempre così alzati qui puoi fare così qui puoi fare in questo modo qui puoi aggiustare in questo capisci quindi ho avuto artisti che oggi che oggi tutti gli italiani non conoscono perché non sono famosi ok però all'interno dello studio dove ho lavorato che ti ricordo è stato quello dove ha lavorato anche Miyazaki tutti mi hanno sempre parlato bene di lui che aveva sistemato il lavoro quando era arrivato lo studio era non era disordinato per carità lui ha fatto subito da regista anche il capo della situazione e quindi ha sistemato ha sistemato qui mettiamo questo qui si passa così questo si fa in questo modo e quindi tutti seguivano quel metodo di lavoro e lì ti rendi conto e lì ti rendi conto non del Miyazaki Miyazaki famoso Miyazaki bravo Miyazaki questo quest'altro eccetera eccetera come parlano tutti lì ti rendi proprio conto della gente che impara il mestiere capisci cioè io ho visto gente che aveva migliorato il proprio mestiere le proprie capacità grazie a quell'uomo lì ti rendi proprio conto del respiro capisci ti trovi davanti delle persone che che non saranno mai famose ma che lavorano benissimo ok e lo fanno con serietà avendo imparato da un maestro simile per me Miyazaki è un maestro in questo senso cioè veramente un insegnante è un capo cantiere capisci è questo che spesso e volentieri la gente dimentica io questo è quello che ho ispirato quindi Andrea alzati ti faccio vedere come si fa capito Andrea Ando sì no poi comunque è andata meglio ho visto anche persone nuove arrivare quindi ero praticamente per loro una sorta di se in pari non si può dire perché è impossibile sempre un cucciolo sono rimasto però nello stesso tempo è stato molto molto bello cioè veramente un'esperienza irripetibile troppo 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 bella non ho parole veramente se ti dico Telecom Animation Film che ti viene in mente cioè questo periodo tanti tanti bellissimi compagni tanti di ricordi bellissimi a prendere il tè a chiacchierare a sentire musica no la Telecom è veramente per me è come se fosse un pezzo di casa mia ecco cioè quando due anni fa sono stato nella sede nuova è stato comunque molto bello però sono stato nella sede nuova della Telecom che poi adesso è insieme alla TMS e ho visto un ambiente totalmente sempre simile sempre i tavoli dove si lavora però molto più lindo più pulito non so se è chiaro i tavoli erano nuovi i computer cosa che quando c'ero io non c'era niente di tutto questo però è stato molto bello perché parlando con con un animatore mi ha detto ah vedi che ancora ci siamo portati dei tavoli vecchi dalla vecchia Telecom alcuni ancora li usano stanno in mezzo agli altri erano di legno proprio di color legno capito non bianco come adesso tipo Ikea dove lavorare e per me è stato bello questo perché ho detto adesso ne voglio vedere uno dove ah lì dietro se vai lì dietro già ce n'è uno ecco ed è stupendo cioè è proprio usati usati tantissimo è romanticismo io sono un romantico e quindi e quindi quando mi hanno visto l'auto ho detto Andrea cioè praticamente mi sono fermato lì e alcuni vecchi proprio vecchi colleghi adesso vecchi come me sono venuti loro a trovarmi piuttosto che andare a trovare loro che sono venuti vicini oh come stai tutto bene io stavo lì sul tavolo ma che bello che è ma vabbè comunque tu hai conosciuto due grandi artisti della musica tra cui probabilmente chiarato la musica a Lupin cosa ricordi questi personaggi? dire ricordi è un po' strano perché perché non si tratta di ricordi in quanto io comunque vado almeno una volta all'anno in Giappone e il musicista di Lupin Ono Yuji lo incontro ci vediamo non è ci vediamo non c'è nessun mistero insomma non è un ricordo assolutamente anzi cioè siamo siamo tra virgolette non non posso mai dire anche perché comunque i giapponesi non dicono tranquillamente come gli italiani siamo amici no non posso dirlo però non posso dirlo nel senso che non è nello spirito giapponese dire siamo amici però nello stesso tempo diciamo che quando ci vediamo tranquillamente non si fa nessun problema ricordo il nome mio di mia moglie chiacchieriamo facciamo è contento insomma ha messo anche su Twitter oggi sono venuti i miei fan italiani io ho delle foto che non mostro però il primo il primo manga di Lupin quando è uscito le lo portai una sera al concerto ed eravamo tutti contentiti oh veramente ma guarda sei proprio bravo ma non era quel bravo di dire ti do il contentino perché comunque con Ono ci siamo ci siamo visti praticamente due tre volte al mese per i suoi concerti fissi cioè fissi proprio ci siamo visti proprio sì cioè e abbiamo comunque amici in comune i miei più grandi le mie più grandi amiche dal punto di vista musicale sono non sono appunto sue fan sono sono non lo so mi posso permettere di dire di 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 esperti di conoscitori di di grandi fan di Ono ne esistono lo dico sul serio tre di cui uno sono io le altre due sono comunque due carissime amiche ma veramente carissime amiche qui ci siamo visti tante volte adesso neanche una settimana fa una di loro mi ha scritto con un'altra ci sentiamo spesso e loro sono sono io sono il come dire anzi sono quello l'ultimo arrivato perché loro comunque seguono Ono da da una vita tu pensa che una di loro si è trasferita a Tokyo solo perché voleva seguire i suoi concerti cioè capisci cioè ha trovato lavoro ha cercato solo per andare a vedere lui e vede tutti i suoi concerti e io alzo le mani è lì è un po' difficile fare concorrenza impossibile l'altra grandissima amica è stata anche organizzatrice di un concerto di Ono e io ho fatto da direttore del montaggio di questo concerto quindi in realtà c'è anche un ci ho messo anche lì lo zampino bellissimo sì è stato un carino sistemato sì sì certo di doppiatori italiani l'hai conosciuti? io ho conosciuto solo Roberto del Giudice sì sì è stato anche lui è stato anche lui veramente una persona disponibilissima da subito io non so se è Misatsu Animatic sì l'ho detto del fatto che io ho preso semplicemente davanti alla stazione c'era un un negozio c'è negozio un telefonia di stato con tutti i cataloghi le pagine gialle di tutta tutta l'Italia ho provato semplicemente a a vedere a vedere un po' se c'era a Roma un Roberto del Giudice e ce n'erano due provai con il primo pensando già di disturbare insomma solo così e lei che bello eccetera e lì diciamo che sono stato parecchio maleducato perché diciamo che questo tipo di cose sarebbe meglio non farle però erano altri tempi dai non c'erano gli eventi in cui ti portavano le persone erano persone capito ti viene la curiosità e comunque ero parecchio giovane e mi risponde proprio lui con la voce proprio tranquilla e mi dà tutta la disponibilità contentissimo di sentirla mi dispiace non vorrei disturbarla così eccetera eccetera proprio al contrario no no assolutamente non ti preoccupare io so che comunque ci sono tante persone che con Lupin sono sono dei fan sono orgoglioso di fare di fare la voce di Lupin io stavo lì ma stavo morendo al telefono è il bello che era botta e risposta capito cioè non era sentire la tv e niente l'ho ringraziato ho detto se vuoi comunque poi ci sentiamo eccetera eccetera e io la prima cosa che ho fatto sono tornato a casa e ho messo una videocassetta di un episodio cioè dovevo sentire la voce capito la voce per confrontare per capire se effettivamente orca miseria stavo lì stavo impattendo ma possibile ci ho parlato con Roberto del giugno così uscendo di casa praticamente un po' come ci sentiamo noi adesso cioè tu esci di casa e decidi chiamare un certo Roberto del giugno così ti risponde lui è disponibilissimo a quel punto non potevo dirlo alla mia ragazza perché anche lei comunque era fan di Lupin e niente ho dovuto tenermi il segreto l'ho dovuto richiamare ho detto non è che facciamo una sorpresa allora io ti invio i nostri indirizzi ti mando un mio disegno come ringraziamento e un paio di cartoline una per me scrivi sopra quello che vuoi e l'altra per lei così troverai nella cassetta della posta capito e niente lui ha detto certo ma non ti preoccupare mandamela l'indirizzo ce l'hai ho detto sì l'ho trovato sui pali è il numero che ho chiamato niente gli ho mandato comunque la lettera lui ha preso comunque cioè l'ha aperta ha avuto il disegno e mi ha mandato cioè ha mandato sì a lei ciao carissima sono ciao Cristina sono un saluto da Lupin in passaggio da Roma in visita a Roma con con la firma Lupin e Roberto del Giudice e a me invece ha detto grazie Andrea di tutto questo ti vorrei far sapere che Lupin ha appeso il tuo disegno in camera perché Lupin che stava in sede di doppiaggio con tanto di microfono leggio eccetera bellissimo tu immagina cioè io ho ricevuto la cartolina e stavo già impazzendo ce li ho ancora c'ho tutto quanto tutto c'ho tutto cioè è come è come portare al Ritz un a cena capito per far colpo una ragazza capito la porti a un ristorante la fai salire sulla Cadillac ecco praticamente la cartolina di Roberto ha avuto questo effetto quanto sei bello amore mio praticamente l'ho regalato un sogno e ho regalato anche a me un sogno però dimmi dai qual è l'ultimo Monkey Punch e Lupin Lupin e Monkey Punch qual è il futuro secondo te possibile di Lupin cosa cambierà allora innanzitutto ti dico una cosa che è già parecchio parecchio vecchia almeno per me l'idea del di di Lupin come come personaggio in realtà non credo proprio che abbia possibilità di fine perché ormai è diventato un personaggio storico cioè popolare che va bene per ogni periodo e rispetto a tante altre produzioni che rimangono ferme ferme per dire per esempio anche un personaggio che noi conosciamo tantissimo come Asterix per esempio ecco o L'Uomo Ragno hanno comunque una sorta di vita nuova cioè vengono ancora pubblicizzati escono cose nuove eccetera Lupin è praticamente un personaggio così cioè Lupin comunque avrà sempre special film iniziative e molte non arrivano neanche in Italia nel senso che vanno già bene per una produzione nazionale adesso da poco è uscito anche cioè da testimoni all'whiskey per esempio da pochissimo tempo ok probabilmente questa è una cosa che non sai o non hai visto non lo so no è difficile però in Giappone se vai a comprare quella bottiglia di whisky trovi il personaggio di Lupin che dice questo è buono capito cioè pubblicità televisive cioè è un personaggio che vive un personaggio che esiste un personaggio che si rinnova e tra l'altro non solo si rinnova ma ha diverse facce nel senso che non è come Asterix o come L'Uomo Ragno che ha il suo la sua immagine come dire pattern si dice pattern che ha L'Uomo Ragno è L'Uomo Ragno lo vedi in maniera differente o Asterix e Asterix non cambia di stile ok Lupin è un personaggio che può andare anche in altre serie televisive che può diventare buffo ok che lo puoi trovare in tanti tipi di character design c'è quello più per bambini c'è quello più adulto no non so se mi segui sì 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 no no perfetto quindi comunque Lupin continua a vivere sotto questo aspetto per quanto riguarda l'ultimo film siamo ancora all'inizio in quanto ti dico veramente più di vent'anni fa ero a casa di Monkipanch e lui mi disse uno dei miei desideri è più che vedere Lupin in carne ed ossa perché l'America le aveva anche fatto la proposta di attori questo stiamo parlando veramente di vent'anni e passa sì sì io quello che vorrei è creare in maniera digitale Lupin come se fosse veramente una persona non so se è chiaro oggi con i computer te ne rendi più conto no ci sono hologrammi ci sono realtà al computer personaggi disegnati al computer che vivono cioè li prendi disposti li fai come vuoi dico praticamente questo film però nello stesso tempo quello che sarà il futuro secondo me di Lupin è praticamente come come trovarsi una persona vera e propria con delle caratteristiche che ancora non sappiamo cioè anche un Lupin vero e proprio come se fosse veramente un attore capisci? sì bellissimo questo bellissimo questo è questo è stato per me sentire per la prima volta la notizia di questo film e niente io credo che se verrà rispettata verrà rispettato questo desiderio questo sogno del maestro sarà veramente la cosa più bella cioè veramente come io vedo te e tu vedi me capisci? trasformarlo in realtà trasformarlo in realtà sì e io spero veramente questo sogno veramente spero che questo sogno sia veri sia veri finché riusciamo a camparci noi insomma ma succederà fidati Lupin non è finito non finirà mai è impossibile così come il maestro a casa mia non è morto c'ho 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 tutto quello che che mi ricorda di lui anche il regalo di matrimonio che il il set per il tè che uso comunque ed è un regalo di matrimonio che lui ci ha fatto cioè io vivo sempre di quello che è suo le sue matite le sue penne capito c'ho nello studio lì dove ho la mia collezione sono sono sempre portata di mano so che capito con quelle mi ha fatto quel disegno c'ho quel tipo di di cose diciamo che alla fin fine sono oltre che romantico sono anche un nostalgico allora concludiamo facendoci i saluti ci fai un bel saluto si anche perché si ok vedo che stai con con Akira pure telecom proprio l'edizione speciale del trentesimo bellissima 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 sei ben fornito vedi attenzione che Luper può fare un salto da te bellissimo sarebbe bello va bene comunque mi ha fatto molto piacere mi sono mi sono veramente trattenuto con con piacere diciamo che purtroppo adesso mi stanno aspettando però io vorrei comunque fare un ringraziamento a te non solo come infermiere ma per l'invito sono stato comunque contento perché mi piace comunque chiacchierare e e niente poi ci sentiamo ci aggiorniamo e anche con con facebook visto che ormai abbiamo un'amicizia e se ti capita c'è una pagina che si chiama Zocca quelli sono alcuni miei disegni ah sì ok ok dai me lo devo segnare Zocca con la Z ok ok ti vado a vedere e ti stroncherò da matti ti stroncherai bellissimo va bene buona serata grazie a te grazie di tutto di niente grazie a voi ciao 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 oh stupendo il vinile di Akira bellissimo fantastico vi invidio vi invidio bellissimo bellissimo ma comunque vabbè in futuro forse qualcosa riuscirò a trovarlo anche io in Giappone quando finalmente ci si potrà se riusciamo a organizzare qualcosa in Ascoli ti inviteremo grazie tante verrò senza nessun problema molto volentieri grazie ciao ciao Pietro ciao un saluto a tutti voi ciao 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 ciao